Io ragazzi contro questa cosa qui lotterò sempre, sempre fino alla fine dei miei giorni contro questo vittimismo scellerato da parte dei napoletani ma non solo da parte dei napoletani, da parte anche di molti altri a favore dei napoletani Allora, qualche anno fa, vi racconto questa storiella qualche anno fa chiusero la curva alla Juventus, la curva Sud e anche la curva Nord se non sbaglio i napoletani fecero uno striscione, non questo qui un altro nel quale scrissero tipo lo Stato, non so, adesso non ricordo, tipo la provincia, il comune di Napoli questo e l'altro, questa è la vera discriminazione e non qualche coro insomma a favore della nostra curva Dopo vennero chiuse anche la curva Sud Milano del Milan e la curva Nord dell'Inter e la curva B del Napoli espose questo striscione Napoli colera, adesso chiudeteci la curva Perché? Perché quando dico che chi non vive la curva, che chi non ha la mentalità curva non può capire che chi alla fine si stupisce, evidentemente non è italiano perché alla fine si sa che da sempre qui in Italia c'è stato sempre un grandissimo campanilismo Se la curva del Napoli, la curva B del Napoli ha esposto questi due striscioni, soprattutto l'ultimo vi fa capire che anche per loro i cori che si prendono la buttano sul ridere e nel caso rispondono con gli stessi toni Non che fanno le vittime, infatti molti di quelli che fanno i vittimisti a Napoli non sono quelli che vanno in curva Quelli che hanno mentalità da curva più che altro, perché poi c'è chi va in curva perché si paga meno Solo per quello, ma la maggior parte sono quelli che o stanno in tribuna a Napoli o quelli i tifosotti che trovi per strada e quant'altro, ma quelli che vanno in curva non se la prendono Ok, non se la prendono Non se la prende chi di Torino si sente cantare di Torino in fiamme, non se la prendiamo noi Ok, che noi ad esempio della provincia di Venezia quando ci cantano Alta Marea Portali Via Non se la prendono i Genoani e i Sampdoriani quando gli cantano Alluvione Portali Via Non se la prendono i Romani quando gli cantano Romano Bastardo Non se la prende nessuno a parte quella tifogeria E la cosa vergognosa, ma questo lo dirò quando ci sarà la sentenza di giudice sportivo Oggi pomeriggio, che sicuramente ci chiuderanno la curva contro l'Inter ragazzi mettetevela via E che questa cosa qui va avanti grazie in media Perché se tu non fai la domanda a Gravina Gravina non si sente obbligato ad approfondire la situazione E non si sente obbligato a chiedere sanzioni per la curva della Juventus Perché poi per quella della Roma Ok, prenderà una multa ma di fatto non chiederanno di più Perché alla fine l'importante è punire comunque la Juventus Ma va bene questo Ehm... E questo, cioè la pressione mediatica Perché una volta non c'erano tutte queste domande sui cori, su queste cose qui Perché alla fine sapevano, e i giornalisti erano i primi a sapere che queste cose accadevano ovunque Ovunque, ok? Che accadevano sempre, sono accadute e accadono e accadranno sempre In tutti gli stadi, in tutti i campi Dalla serie A alla terza categoria Accadranno, e alle giovanili anche Accadranno sempre Sempre Perché il nostro paese è un paese campanilista da sempre Che poi, dal cantare Lavali col fuoco, ad esempio in curva Al andare ad augurare veramente la morte in giro Ce ne passa Cioè non è che se io canto Lavali col fuoco in curva Poi in giro vado veramente a sperare che i napoletani muoiano No, no, no Perché chi pensa questo è veramente malato mentale Chi pensa che chi va in curva a cantare quei cori Spera veramente che il Vesuvio erutti Veramente quelli, quelli sono malati mentali Comunque Comunque Per chiudere questo video Avete visto che Qualche anno fa era il 2013, se non sbaglio La curva B del Napoli Un gruppo ultra storico, tra l'altro I FEDAIN Adesso non mi ricordo come cazzo si pronunciano Però Quel gruppo ultra sly Fece questo striscione Contro la legge sulla discriminazione territoriale E a sostegno delle curve chiuse Bene Non serve che io aggiunga altro Perché tutti gli altri napoletani E non E anche gli stessi juventini Che condannano quei cori Che prendono le distanze Che fanno immoralisti e quant'altro Vengono sbugiardati da questo striscione Adesso rodetevi il fegato Perché se sono gli stessi ultras Veri ultras del Napoli A pensarla così Un motivo ci sarà Ok Bene Buona giornata a tutti Buona giornata a tutti